In Colethen Ring. Cane da pastore australiano, Cane da pastore dell'Abrie, Australian Cattle Dog, Cane da pastore scozzese a pelo lungo, Bovaro delle Fiandre, Cane da pastore maremano abruzzese, pastore bianco svizzero, Welsh Corgi Pembroke. Primo raggruppamento che vede racchiusi in sé tutte le razze da pastore bovari, ovviamente la differenza sta nell'animale gestito, i pastori seguiranno le pecore, i bovari i bovini. Sono cani caratterizzati da moli, come potete vedere, piuttosto differenti. Il denominatore comune, a parte i guardiani del gregge, è quello di essere strettamente collegati al proprietario, razze estremamente obbedienti, ma d'altra parte con una necessità continua di contatto con il proprietario. Gli inglesi le definiscono Highly Demanding Dog, ovvero razze che hanno bisogno di una stimolazione mentale, anche non solo esercizio fisico, costante. Preselezionati, il Cane da pastore bergamasco, il Bir de Collie, Rough Collie, Bouvier de Flandre e Cane da pastore maremano abruzzese. e Schweizer Weiss, ah non, siamo, Welsh Corgi Cardigan. Grazie a tutti. 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 Secondo posto, Ralph Coley, and the winner is Canada Pastore Bergamasco, e rappresenterà i pastori al Best in Show finale. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori.